Non c'è niente di meglio che l'arrivo di una patch in modo anticipato, ovvero oggi, il 15 gennaio 2019, che porta tantissime novità e finalmente migliorie. Battlefield V è ufficialmente in via di guarigione, già da questo piccolo aggiornamento di 3,5 giga, molti dei problemi che ci affliggevano nel corso dei primi due mesi sono scomparse del tutto. Ovviamente questa patch non va ad aggiungere i contenuti dei venti di guerra, il secondo capitolo. Per questo evento bisognerà aspettare ovviamente il 17 di gennaio. In questa patch DICE ha finalmente risollevato la testa di Battlefield V e ora cercherò di darvi rapidamente le mie prime opinioni nelle prime partite disputate dopo la patch. Per prima cosa, la più importante, il frameshotting, uno dei più gravi problemi che affliggeva Battlefield V a livello di netcode, è stato risolto. Se dovesse ricapitare in partita è un evento completamente raro, magari mosso dalla connessione generale del server. Ora gli effetti sonori sulla mappa sono correttamente piazzati alla giusta distanza dal nostro personaggio, dunque se un nemico sta sparando dalla lontananza lo riusciamo a capire. In più il livello del rumore, dei passi, dei giocatori avversari è stato nettamente migliorato. Ora grazie all'ausilio delle nostre singole orecchie riusciamo a capire perfettamente da quale direzione sta arrivando un nemico, permettendoci dunque di anticipare le sue mosse e magari tendergli un'imboscata. Il flare del cecchino è stato finalmente potenziato aumentandone il raggio di spotting, diminuendone però la durata effettiva. Ora i gunfight danno una sensazione di bilanciamento perfetto e abbiamo anche finalmente il tempo necessario per capire da dove ci stanno colpendo. Cosa che prima non accadeva perché a causa del netcode ballerino il nemico ci sparava 20.000 pallottole ma noi ne percepevamo unicamente 5 o 6. Sembra che i cararmati abbiano avuto un netto potenziamento rispetto al passato e per farvi l'esempio prenderò ovviamente il nostro amato Tiger. Prima con un solo colpo esplosivo di questo cararmato contro un veicolo leggero inglese gli facevamo 30-35 punti danno, una cosa veramente ridicola. Ora con un solo colpo il Tiger toglie ben 51 punti vita a un carro leggero. Non sto parlando del carro leggero Valentine ma del mezzo a 4 ruote con il cannone anti-uomo posto in cima, di cui ovviamente attualmente non mi ricordo il nome. In più sembra essere stato potenziato nettamente anche lo splash damage dei colpi principali. Ora se spariamo al suolo i nemici ricevono 80-90 di hit precisi e in molti casi invece gli one-shotiamo come succedeva su Battlefield 1. I movimenti del giocatore sono stati finalmente migliorati e resi molto più fluidi rispetto alla versione precedente di Battlefield 5. Nel mentre che stiamo correndo il nostro personaggio non si incastrerà più in mezzo alle rocce, non falliremo più nello scavalcare delle semplici staccionate o cercando di uscire dalle finestre. Attualmente il personaggio riuscirà a fare tutte queste animazioni al primo colpo in un modo preciso e veloce, permettendoci dunque di spostarci rapidamente in mezzo alla mappa e utilizzare i ripari nel tempo giusto. La killcam è stata migliorata rispetto al passato ed ora quando verremo eliminati da un giocatore un bollino rosso verrà piazzato sopra il suo personaggio. All'interno di questa icona verrà visualizzata la classe che ci ha ucciso, dunque il simbolo appartenente alla classe dello scout, dell'assalto, del medico o del supporto. E in più tutto il corpo del nostro avversario verrà illuminato di rosso anche attraverso le pareti e qualsiasi tipo di superficie, facendoci capire da quale esatta posizione ci ha eliminato il nostro avversario. L'eat detection del gioco è stata sistemata e ora mentre veniamo colpiti dai nostri... L'eat detection del gioco è stata migliorata e ora quando veniamo colpiti dai proiettili avversari il radar ci mostrerà in modo corretto la direzione di questi ultimi. Prima succedeva che quando un nemico ci sparava alle spalle il radar virtuale ci faceva vedere le onde rosse davanti a noi, o magari la nostra destra e nostra sinistra. Questa cosa appunto non ci faceva capire qual era la esatta posizione da cui stavano arrivando questi colpi, impedendoci dunque di ripararci nel modo corretto e di fronteggiare il nostro avversario. E questi ragazzi sono soltanto alcuni piccoli esempi di come il gioco a mio livello personale l'ho visto cambiare e migliorare rispetto appunto alla scorsa settimana. Questa pace seppur piccola di dimensioni ha fatto dei netti cambiamenti e ha portato ottime migliori a livello del gameplay. Cambiando completamente l'aspetto virtuale di questo gioco che all'inizio faceva venire veramente il vomito. E calcolando che DICE è già al lavoro per portare un'ennesima pace che andrà a migliorare ulteriormente il netcode del gioco, beh ragazzi siamo veramente in una botte di ferro. Se DICE continuerà a lavorare con questo impegno e capendo dove sono gli errori effettivi Battlefield V potrà finalmente guarire e andare in alto. Io ragazzi penso di avervi detto tutto quanto, noi ci vediamo ad un prossimo video, un subito abbraccio, il vostro Master Doom 93. Oh yes bitches, oh yes!